Come è stato un grande lavoro di squadra? E ha dato le proprie capacità per realizzare questo progetto e si è visto come alla fine si arriva a un grande risultato. C'è il livello delle opere che sono state mostrate tutti assieme, c'è il livello della mostra che è veramente ad altissimi livelli grazie ovviamente a Bober ma anche ai nostri genovesi. Quindi voglio dire un grande lavoro di team e come al solito la dimostrazione che quando si fa un lavoro di team i risultati sono sempre eccezionali. Io ovviamente ringrazio sia gli sponsor, ringrazio Salini, ringrazio la Banca Passatore, ringrazio tutti quelli che hanno collaborato oltre ovviamente agli uffici che hanno fatto un grandissimo lavoro. Ma soprattutto voglio ringraziare i genovesi che verranno qui a vedere queste mostre in numeri incredibili e che soprattutto andranno anche a Roma a vedere la mostra di Roma. Perché aver fatto questi eventi in parallelo non fa altro che avere ancora di più un effetto sinergico. È una delle prime volte, forse anche la prima, che si fanno mostre così in parallelo, tra l'altro collegate dal treno che stamattina, che oggi pomeriggio è arrivato proprio un'ora e mezzo fa, è arrivato qui a Genova. Quindi abbiamo fatto una cosa che rimarrà, rimarrà, io voglio dire, nella storia delle nostre attività culturali e sarà veramente un punto di eccellenza per il 2022. Senza dimenticare ovviamente tutte le altre manifestazioni attorno e soprattutto quello che faremo a ottobre con Rubens e i palazzi di Genova. Quindi vedete anche nell'autunno avremo un collegamento con lo stesso tipo di periodo storico che non ha fatto altro che dare a Genova il primato della città più ricca del mondo.